Grazie a tutti. All'improvviso, senza che nessuno mi avesse avvertito, mi trovai completamente nudo in piena città di Milano il 24 ottobre del 1907. Un signo chino ancien, mu, che significa il vide, rien. Quello nato a Milano nel 1907. Quello delle macchine inutili del 1930. Quello dei nuovi libri per bambini del 1945, ristampati ancora oggi in varie lingue. Quello dell'ora X, quello dei multipli, del 1945. Quello delle scritture illegibili di popoli sconosciuti, 1947. Quello dei libri illegibili, del 1949. Quello delle pitture negative e positive, del 1950. Quello delle aritmie meccaniche, del 1951. Quello delle proiezioni a luce polarizzata, del 1952. Quello delle fontane e giochi d'acqua, del 1954. Quello delle ricostruzioni teoriche di oggetti immaginari, in base a frammenti di risilvi di origine incerte e di uso dubbio, 1956. Quello delle forchette parlanti, del 1958. Quello del design. Quello delle sculture da viaggio, del 1958. Quello dei fossili, del 2000, 1959. Quello delle strutture continue, 1961. Quello delle xerografie originali, del 1964. Quello degli antenati, 1966. Quello della Flexi, del 1968. Quello della grafica editoriale in Audi. Quello dell'abitacolo, del 1971. Quello dei giochi didattici di Danese. Quello dei messaggi tattili per non vedenti, del 1976. Quello dei bonsai. Quello dei laboratori per bambini al museo, del 1977. E di tutti gli altri laboratori in altri paesi. Quello della lampada di maglia. Quello dell'olio su tela, del 1980. Quello dell'alta tensione. Quello dei colori rotanti. Quello che mi è rimasto, del periodo futurista, potrei dire che è il senso della ricerca e della sperimentazione. Perché ci sono dei messaggi estetici. Naturalmente mi rivolgo solo all'uso degli occhi. messaggi visivi, mentre altri messaggi sonori sono la musica e sono per altri canali. Ci sono tanti messaggi da comunicare, per i quali però bisogna inventare la tecnica giusta. Perché in fondo non è detto che tutto debba essere pittura e scultura. Può essere anche un'altra cosa. Per cui le macchine inutili già erano un'altra cosa. Che non era presa sul serio sia per il titolo, sia perché era roba da poco. Che costava poco. Quello del premio Anderson per il miglior autore per l'infanzia e quello del premio Lego. Laurea ad onore in architettura dall'Università di Genova. Socio onorario dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Premio Marconi 1992. Ognuno conosce un munari diverso.